...forte per questi grandi atleti, irriducibili ci sono, non mancano i giovani atleti ci sono! Insomma, ci siamo tutti per festeggiare... ...con i Germani Venecia! ...si alza l'emozione, arrivano i primi atleti, attenzione a sezione! ...eccoli qua, eccoli qua! ...il loro ritiro dal 28 agosto al 4 settembre... ...sull'incontrazione dell'ospedale di Legio Torale... ...serva di Brescia! ...il loro ritiro! ...le loro ritiro da questi grandi atleti! ...ci sono più con noi di nuovo! ...quartate che spettacolo, guardate che atleti ci fanno sognare! ...ci dov'è risultare! ...ci dov'è risultare! ...vi pensavo di tutti i media, i camera, i fotografi... ...i tifosi, i mister, gli atleti... ...insomma, tutti i medici, lo staff tecnico!